Presciano i presciani, vittoria agli italiani! Erano circa un migliaio le persone che ieri si erano sfilate per via Valle Camonica, al luogo di Degrado, dove spaccio di droghe e prostituzione sono in realtà ben radicate, raggiungendo il negozio di Frank, Francesco Seramondi, trucidato a fucilate insieme alla moglie Giovanna, martedì mattina. Non era presente il figlio Marco, che ha annunciato su Facebook la sua rinuncia ad una manifestazione che aveva un taglio politico decisamente definito. Dietro allo slogan, Brescia e Bresciani ci sono infatti attivisti di Casa Pound e Forza Nuova. Durante il corteo, diversi sono stati cori contro l'immigrazione e contro il sindaco del Bono. Questa zona della bandolossa, io sono di Verona, sono venuto stasera, la conoscevo a 60 km di distanza, 30 anni di degrado, 30 anni di prostituzione, droga, spaccio. Ma ieri sera non c'erano solo loro a sfilare per strada, con loro anche tanti uomini, donne, giovani e anziani che hanno comunque sentito l'esigenza di manifestare il disagio contro una situazione di degrado nel quartiere periferico della città dove è avvenuto il duplice delitto. Persone che hanno sostato in silenzio davanti al negozio di Frank. Proseguono intanto a 360 gradi le indagini sul duplice omicidio. Qualche informazione importante in più, gli inquirenti l'hanno ottenuta grazie alle immagini del circuito interno di telecamere presente nel negozio. Non due ma quattro colpi esplosi da uno dei due killer entrati in azione con fucile a canne sovrapposte e mozze. I due, d'età compresa fra i 30 e i 40 anni, sono entrati nel negozio uccidendo con un solo colpo Giovanna Ferrari, per poi colpire il marito Francesco alla schiena. L'uomo ha tentato infatti una disperata fuga verso l'uscita del suo laboratorio dove è stato però raggiunto da altri due colpi di fucile. I due, ripresi dalle telecamere a bordo di uno scooter, con quello si sono allontanati, facendo però perdere immediatamente le loro tracce. Gli investigatori non escludono che vi fosse un terzo complice ad attenderli con un furgone e a nascondere la moto. Sicuramente chi ha agito è comunque un professionista. Per provare a risalire al movente dell'omicidio, gli inquirenti stanno scandagliando anche la gestione economica dell'attività. A questo proposito hanno congelato conti e depositi familiari dei seramondi. Mentre il prefetto Valenti ha convocato un vertice con tutte le forze dell'ordine, sindaco di Brescia e presidente della provincia, il primo cittadino del Bono ha lanciato un appello al governo perché faccia sentire la presenza dello Stato in città. Intanto da ieri è cominciato il rito del comiato dei due coniugi, le cui salme sono state composte all'obitorio dell'ospedale civile. Domani alle 17 a Nuvolento, paese natale di Francesco, verranno celebrati i loro funerali.